è stata la stella più brillante del cinema degli anni 40 e 50 ha avuto una vita a metà tra luci di hollywood e l'oscurità dovuta ai suoi problemi di salute era una donna ammirata da tutti usata da molti amata da pochissimi ma capita da nessuno oggi voglio parlarvi di marylyn morrow e del film ispirato ad un romanzo sulla sua vita ovvero blonde scritto da joyce carol hoz buon pomeriggio da valerio perrone bentornati su ciaccazione oggi volevo parlarvi di un film del 2022 che potete trovare su netflix per la regia di andrew dominic appunto blonde ispirato ad un romanzo già scritto vediamo col dire che oggi questo periodo storico il cinema se non si fa un film superiore alle due ore non non si è nessuno perché il film deve essere superiore per forza alle due ore altrimenti non è un capolavoro quindi questo film dura due ore 47 interminabili minuti non tutto il film per carità da buttare cioè a me è piaciuto ma due ore 47 minuti che poi saranno 44 quel senso otto titoli è veramente un'infinità ragazzi l'ho sentiti moltissimo poi soprattutto per il ritmo del film che non è proprio dinamico devo dire che l'ho accusato ecco però c'è da dire che la grande interpretazione di interpretazione di anna de armas ci ha veramente fatto risollevare il morale in senso metaforico perché comunque la sua marylyn morrow è un personaggio struggente che incanala perfettamente ciò che l'attrice ha passato durante il suo periodo d'oro ad hollywood quindi tra problemi di depressione dovuti comunque a malattia della madre e tanti problemi di salute mentale in questo si va aggiungere anche la sua dipendenza dall'alcol e la tanta la tanta gente che ha sfruttato il personaggio di marylyn morrow ma questo film si sofferma molto più sulla donna sul personaggio che in sé non quello inventato quindi non marylyn morrow ma su norma jean il vero nome dell'attrice che in questo è molto più rappresentato nel film infatti il regista si sofferma moltissimo sul descrivere la vita dietro le luci della ribalta dell'attrice soprattutto la vita nelle quattro muro domestiche le difficoltà con i vari tra i vari matrimoni con i vari partner con l'approccio alla hollywood degli anni 40 e 50 che si sa erano hollywood molto maschilista una hollywood che sfruttava la figura femminile era ben rappresentata anche dalla serie tv hollywood che poteva trovare su netflix secondo me i momenti in che riguardano norma jean e quelli che riguardano proprio marylyn morrow sono stati ben divisi dal regista con un uso sapiente della fotografia perché l'uso del bianco e nero sta sottolineare proprio i momenti quando vediamo norma jean nella sua vita privata le difficoltà i litigi quindi c'è questo bianco e nero che va a sottolineare proprio la norma jean come donna senza cioè lasciando fuori appunto il personaggio di marylyn morrow quando vediamo marylyn morrow sullo schermo che norma jean che fa la parte di marylyn morrow davanti a tutti c'è questa fotografia colorata comunque non molto accesa sempre un po spenta e staccando in questo modo le due parti della figura poi che è stata norma jean quindi vita privata e appunto la vita di marylyn morrow le scelte del regista le scelte del regista quindi di dominic non mi sono piaciute moltissimo perché ha voluto tirare su creare questa regia dinamica tra inquadrature nei cassetti che si apre dall'interno del cassetto per esempio una regia innovativa che a tratti stanca proprio perché non ha una linea definita a questa regia molto sperimentale che è per dire guardate quanto soffigo fatto la regia diversa da tutti che alle volte potrebbe anche stancare molto pesanti scelte soprattutto c'è una scena fortissima verso la fine nel quale si va a sottolineare il rapporto con presidente kennedy perché comunque sappiamo che in realtà loro dovrebbero aver avuto una storia ma non si hanno le certezze di questo e quindi molto ispirata al romanzo perché nel romanzo c'è questa questa scena diciamo quanto riguarda la relazione col presidente kennedy e vediamo che lei viene scortata dall' fbi dai servizi segreti del presidente fino a diciamo la stanza dell'albergo dove ci trova kennedy e qui vediamo questo presidente disteso sul letto mezzo senza mezzo tutto nudo completamente nudo che costringe marylyn morrow ha un rapporto orale e c'è questa inquadratura mentre lei fa stesso orale con lui stretta primo piano su sugli occhi di lei con il movimento classico è un'immagine forte che molto ha fatto discutere il film di queste scelte registi che ce ne sono moltissime l'inquadratura dall'interno dell'utero durante i due aborti fatti vedere nel film è un film molto angoscioso che delinea parecchio la lo stato d'animo che ha attraversato marylyn nel periodo in cui c'è stata diciamo che è stato molto contestato il film proprio per aver sottolineato questo maschilismo questo questa oggettificazione della donna nel periodo che secondo me anche storicamente accurato perché come dicevamo appunto la hollywood di quegli anni era così non ci si può nascondere dietro un dito troppi scandali che sono usciti durante quel periodo anche successivi a quel periodo quindi devo dire che forti ma azzeccate per quanto riguarda i fatti raccontati nel film si può dire che molti sono inventati ma purtroppo alcuni sono veri si fa molto ispirazione al libro appunto perché non è un biopic vero e proprio ma è ispirato al romanzo quindi quali sono i fatti reali e quali quelli inventati vediamo nel film come detto la relazione con kennedy non sappiamo se ci sia stata veramente oppure no qualcosa probabilmente c'è stato ma non così tanto accentuato come rappresentato nel film sappiamo che kennedy usava le donne colpito anche da vari scandali quindi diciamo su questo non si hanno certezze possiamo dire però con certezza che il suo matrimonio con giù di maggio è terminato solo dopo pochi mesi appena 9 perché appunto lui era violento si ubriagava e non accettava il fatto che lei fosse così famosa e la picchiava come appunto vediamo nel film è vera la scena la famosa scena del vestito bianco quando lei sopra la griglia si alza il vestito e lui infuriato a casa la picchia e da lì si spezza tutto quella quella è accuratamente reale un'altra cosa che è vera e io pensavo sinceramente non lo fosse fosse ispirato solamente al romanzo ovvero all'inizio del film vediamo norma gene la madre che la porta porta questa bambina dentro la stanza e c'è una foto di clark gable appesa sul letto e toma e la madre dice quello è tuo padre e la bambina per molti anni fino all'età adulta pensa che clark gable fosse suo padre e questa cosa realmente accaduta alla vera mary lee morrow che credeva non fino logicamente all'età di 32 35 anni ma per molto tempo ha creduto che clark gable fosse suo padre e questa cosa è veramente incredibile anche perché poi loro l'ultimo film coincidenza ancora più incredibile che hanno nel quale hanno recitato insieme gli sposati e dopo di quello entrambi sono morti film tra l'altro scritto dal secondo marito di se non sbaglio il secondo marito ovvero frank miller lo sceneggiatore che durante altra cosa vera vediamo che durante il film durante il loro matrimonio interpretato miller interpretato adriam brody vediamo che nel film durante il loro matrimonio lei gli fa promettere di che non scrivere niente su di loro o su di lei perché lui appunto essendo uno sceneggiatore promessa che non viene mantenuto tant'è vero che lei lo scopre e da lì si rompe il rapporto tra i due la sceneggiatura scritta da frank miller ispirata al rapporto con mary lee morrow è appunto gli sposati film che interpreterà proprio merlin a fine carriera con clark gable scritto da frank miller l'ex marito di mary lee morrow veramente quando si dice i casi della vita altra cosa falsa che vediamo nel film ovvero il rapporto a tre con il figlio di charlie cepplin ovvero charlie cepplin junior e l'altro ragazzo scusate mi sfugge il nome nella realtà non c'è nessuna traccia di questo menage a trois con questi due ragazzi ma sembrerebbe che merlin abbia avuto una storia con entrambi in due momenti storici differenti qui si fermano le analogie quindi i fatti accaduti manca logicamente la famosa canzone happy birthday mr president non rappresentata nel film ripeto una grande anna de armas che vedremo probabilmente agli oscar e una regia un po troppo ricercata con una lunghezza estremamente lunga poteva essere tranquillamente una mezz'oretta in meno il film quindi probabilmente potrebbe essere nominato andrew dominic agli oscar insieme all'incredibile anna de armas veramente fantastica ragazzi ho cercato di essere il più breve possibile perché veramente capisco che il film è lunghissimo di cose ce n'erano tante da dire e ho cercato di stringere e di trovare al di trovare le notizie principali per raccontarvi questa avventura angosciante perché devo dire che un po mi ha angosciato quindi ve lo consiglio si andate a vedere vedete lo tanto lo trovate su netflix la fortuna è che potete anche vederlo in due volte visto la durata di tre ore non capisco che non tutti possono trovare tre ore del loro tempo per vedere un film quindi ve lo consiglio non perché sia questo grandissimo capolavoro ma perché ognuno deve avere la propria opinione a me non mi è piaciuto tantissimo ma devo dire che non l'ho trovato così orrendo ma neanche un capolavoro è un film che racconta la parte più negativa della vita di marilyn morrow tralasciando tutte le cose belle che ha fatto e le cose positive per cui è ricordata quindi andate a vedere blonde lo trovate su netflix io vi ringrazio per avermi seguito fin qui lasciate un commento qui sotto come al solito trovate tutti tutti i nostri link in descrizione seguiteci su instagram facebook e appunto su youtube vi aspettiamo al prossimo video e un abbraccio da aderio ferrone